Abbiamo già dichiarato che nelle intercettazioni si fa riferimento ai tetti della Regione Lazio e quindi sostanzialmente noi temiamo che con questa espressione si faccia riferimento a degli stanziamenti e non vorremmo, effettuati con decreti presidenziali da parte della Regione Lazio fuori dal controllo del Consiglio, quindi non in fase di assestamento del bilancio. Adesso vedremo se ci sarà qualche decreto presidenziale che assegna risorse alle cooperative, quindi all'universo di cooperative facenti capo alla 29 giugno.